Il Festival del Valchiano racconta cosa vuol dire fare sport e cultura del territorio, non solo con testimonia dei campioni, ma soprattutto raccontando storie di persone, persone comuni che hanno qualcosa da dire e lo raccontano in maniera semplice, perché lo sport è un linguaggio semplice e non banale. La banalità non ci appartiene come non appartiene al stesso settore. Noi raccontiamo storie vere di persone che hanno bisogno di essere raccontate, non perché pietismo o altro d'altro, perché raccontano un modo di provare a dare dei significati alla realtà.